Musica Va bene, entriamo Sta attento senpai, questo posto non mi dice niente di buono Per essere un dungeon che bisogna fare in una giornata sola, sì Sento una voce provenire da qualche parte Dove vado? Ti chiedi Non fare domande sciocche Non mi servono mappe Ho gettato la bussola, sarà il mio cuore a guidarmi Zampetto per conto mio Se mi sento sola ti chiedi Sì, come no Disprezzo persino la me stessa ombra Perché non cerchi di tenermi in gabbia? Spirerò magnificamente davanti ai tuoi occhi Nessuno può tarparmi le ali Non mi serve niente, zampetto per conto mio Era la voce di Mari-chan Ehi, assurdo, guarda senpai Tutti i tuoi oggetti sono spariti What? Mari-chan ha detto non mi serve niente, zampetto per conto mio Non ci credo Quindi questo posto è influenzato dalla negazione di Mari-chan Senpai, stai attento Questo posto è troppo strano E da quando siamo arrivati che c'è qualcosa che non mi convince Anche se non riesco a capire cosa Tutti i miei oggetti di che tipo? Spada strana Pietra dell'addio Ninnolo nero a tubo Ripresta 8 sp ogni turno Spada strana 92 Te la senti addosso quasi si fondessere col corpo Eh sì, ci ha tolto tutto Ventaglio Scudo strano Pistola strana Artiglio strano Abbiamo tutti la stessa armatura Questa è la stessa accessorio Oh, ricordi di separazione Questa è l'area del Junes Questa è le zone della città Questa è la scuola Non vedo ombre qui Un attimo Non intendevo questo Le ombre ci sono Le posso percepire ma non le vedo Vuoi avanzare? Ok Quanto siete forti? Belli quei gambali 150 Faccia di merda Quanto? È tantissimo No, no, no Non lo usiamo adesso Allora 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 È fattibile Però il fatto che ci abbia Tolto tutti gli strumenti Ci mette in serie A difficoltà ora Mi chiedo se sia Ogni piano Una cosa diversa però Niente denaro Sputafuoco E seme del sento Ma è vero Aspetta Ora l'ho capito Le ombre posso attaccare Se tagli questa corda Stai in guardia Senpai Esatto Il vostro spirito Ormai ha gli sgoccioli Perché? Perché sei così esausto? Effettivamente Ci ha ammazzato metà Degli SP Abbiamo anche zero soldi Tutto ci ha tolto Per i pisti a venti Annulla la resistenza Al fuoco di un nemico Forse perché più avanziamo Più saremo in difficoltà Tipo Una roba del genere Ancora la scuola Questi sono tutti I ricordi di Marie In pratica C'è un oggetto Tutto quello che troviamo Lo prendiamo Per forza Campana del fulmine 50 di elettrico Oh Particolare come pose Il bambino E due acquile E due corvi Biancobaleno Brava Allora Ehm Megidolan Sì Usiamolo Tanto non abbiamo nulla da perdere Letteralmente Megidolan fa il suo effetto Megidolan Devasta Ehi senpai Hai notato Puoi recuperare lo spirito In battaglia Forse puoi usare questa cosa Per prepararti Gli scontri futuri Però sarebbe bello Se potessi recuperarne Un po' di più Senza soldi Non possiamo usare Neanche la volpe Beh aspetta Ah no Beh in realtà No Non ce l'ho ancora Stavo dicendo Noi abbiamo un urlo di trionfo Non ce l'abbiamo ancora In realtà Ma con un urlo di trionfo Questa problematica Si Si risolve da sola Il problema cos'è Tu puoi recuperare La Gli sp in battaglia Vero Ma sono pochissimi Ogni turno Pietra luttuosa 12 sp Non è apparso nessuno A sto giro Apparirà sicuro Qualcosa di grosso Tra non molto Ripiste a 50 sp Sarà una dura battaglia Sarà una battaglia Molto dura Bravissima Cie Complimenti Ancora Oh ma Cie Se vuoi giocare solo tu Dimmelo pure Allora Detto questo E tu invece Atterra La faccina Che così Facciamo un assalto E via Come è mancato Faccia di merda Cioè non Yukiko Poverina Intendevo lui Muori per favore Raggarocco Madonna mia Certo che con un'arma Debole Ti rendi conto Di quanto I tuoi età Siano deboli E' veramente pochissimo Quello che facciamo E butto baste Beh dai Almeno Un po' di danno L'abbiamo fatto 40% Ma non penso Ci sarà D'aiuto Infatti Non abbiamo recuperato Nulla Vuoi combattere Mentre aspetti Di riposarti Ma con battaglie Del genere Rischi di ottenere L'effetto contrario Vuoi combattere Mentre aspetti Di riposarti Ma non capisco Cosa possiamo fare? Ovviamente Ah tizio di roccia Vediamo Resistente Ovviamente Megidolan E via Allora Chiariamoci Dammi una mano Alcana Forza Brava Ah speravo Inrise Ah per fortuna E' morto Speravo Inrise Ma per fortuna E' morto Dai 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 Una bella mano Arcana Per favore Ok non è terribile Però non abbiamo soldi Da prendere Vabbè Meglio di nulla D'altronde Evita incontri In questa zona E' inutilissimo Ah senpai Ho capito Perché non usi Gli oggetti Che ottieni dai forzieri Per battere le ombre Prova a vedere Se hai qualcosa Che puoi usare Ho capito Ma Quello che ottengo E' inutile Ne abbiamo uno Ragazzi Cioè Ne abbiamo uno Di ciascuno Non è che posso Mettermi a A farmare oggetti Non ce ne sono Non è che posso Andare in giro Incontro le ombre Le ombre sono queste A meno che A meno che Le ombre Continuano uscire E rientrare Dalla zona E l'altra Riappaiono Sto attacco comunque Carino Molto bello Tutti deboli Al fuoco Cioè in pratica In sta zona Yukiko Best girl Vediamo Cosa c'è qua dentro Un ramo sacro Fuggi dal dungeon E' vero Io stavo pensando Effettivamente A usare Goom Più avanti Ma non ne abbiamo Assassino Del tuo mite sorriso La tua voce composta Dei tuoi occhi scuri Delle tue timide dita Sono vittima Non sono che un cadavere Sciocca Miserabile Felice Sicuramente Finirò Per decompormi Perché mi hai uccisa Eh Posso vedere delle ombre qui Dove siamo Cos'è questo posto Il punto è che questo lucifero A parte urlo di trionfo Non ha niente di Di particolare Una tecnica intelligente Potrebbe essere In realtà Lasciare in vita Solo un nemico E continuare a guardarci E ricaricarci tutti i pipì Fino al full Ma richiederebbe Moltissimo tempo Voglio provare A lasciare in vita Una sola ombra O a meno che Rise non ci ricarichi Sarebbe utile Se lo facesse No? Beh Non è molto Ma è già qualcosa Almeno Dai Rise Ricarichaci un po' di SP Per favore Brava Bravissima La scelta migliore Di lasciare il bambino È stata intelligentissima Certo Ci richiede Molto tempo Per ricaricarci Però Meglio che Che rimanere Per tutto il Dante Dungeon senza SP Meglio che nulla Il vero problema È che tutti Tranne Cie Abbiamo un sacco Di SP Da recuperare La mia vera preoccupazione È che Una volta finita Questa battaglia Ricaricati tutti gli SP Il gioco Non decida comunque Di abbassarceli Come prima Che ce li avevamo full E ce li ha messi a 50 Poi ancora di meno Ancora di meno Beh Noi Siamo full Perché giustamente Ricarichiamo 12 Gli altri Eh Si stanno un po' Arrangiando Come gli capita Beh Meglio di così Al momento Non possiamo fare Poi adesso Magari ci capita Adesso una coppa Infatti Vediamo Speriamo che Che sia abbastanza No Ogni volta che raggiungiamo Quel Quel cap Ci vengono abbassati In automatico Pietra dolorosa 10 SP E quindi La soluzione Diventa Non combattere Cercare di Non combattere Più ombre possibili A parte queste qua Che sono inevitabili Credo che la soluzione Migliore sia Evitarli I combattimenti Prendi tutte le ceste Che trovi E via Se devi combattere Lo fai per forza Va bene Se la soluzione È scappare Evitando i problemi Facciamolo Se è quello che il gioco Ci sta dicendo di fare Per fortuna Che avevamo una chiave Joe Ventoso Ecco qua Infatti Non abbiamo altre chiavi Ora Il problema È che quelli dorati Sicuro Hanno qualcosa di buono Che vuoi che sia Un equipaggiamento Vuoi che sia Un pane Dell'anima La soluzione Migliore È puntare Ovviamente Alle debolezze E avere fortuna Che ti esca qualcosa Per fortuna Sono tutti deboli Al fuoco Spacca fuoco Pietra vitale Siamo in senso Però Il problema Viene dopo Il problema Arriva dopo Quando gli SP Ti vengono dimezzati Ma mi sembra Ma mi sembra Che siano tutti Resistenti al fisico Ma tutti deboli A tutti gli attacchi In pratica Eh Qua È tutta speranza Di trovare altre chiavi E queste cose qua E vedi Ogni combattimento Ti dimezza Gli SP La soluzione È veramente Non combattere Anche se combattere Ti permette Appunto Di poter ottenere Oggetti Che sono oggetti Che ti permettono Poi di ricaricarti Certo Anche lei Ci ha detto Effettivamente Potresti provare A combattere Con gli oggetti Che trovi Ma A quel punto Non puoi poi Curarti Non puoi usare Nulla Scusami Non ho letto Per un brunch Al muffin Alla marmellata Una nota amarognola Che si sposa Con il mio umore Un sospiro Diventa polvere Di stelle La nostra personalissima Via Lattea Non riesco a sfiorare La tua schiera distante Guarda Il crepuscolo È pronto a inghiottirci La distanza tra noi È come un'eterna mezzanotte Un antelucano eterno Ehi senpai Cosa sta dicendo Mari-chan Cosa significa Potrebbe essere Le sue poesie Le poesie di Mari-chan Capisco Forse è questo posto Ma credo Che quelle parole Abbia un significato Più profondo Che è quello Che dicevo anch'io Fin dall'inizio Quando le leggevamo Ogni volta Sembravano dei messaggi Rivolti A qualcuno Diretto All'inizio Ho sempre pensato Che potessimo essere noi Quel qualcuno Ma Con l'avanzare Della sua questline Appunto Della storia Sembrava Che non ci fosse Una persona Una figura Precisa A cui erano diretti Erano Forse anche diretti Solamente A lei stessa Non l'ho mai capito Effettivamente E probabilmente Lo capiremo Solo adesso Le scale Però Per giusta Correzione Vediamo se almeno Una cesta Ci può aiutare Almeno una cesta Che non sia d'oro Perché cacchio Se sono tutte dorate Adesso diventa un problema Rammo sacro Ecco Questo è buono Mi chiedo Se la volpe Non ci curia Gratis però Abbiamo completato Tutta la sua questline E siamo In un dungeon Particolare Che non dà neanche Un centesimo Ehi Per quanto ancora Indosserei Quell'orrenda maschera Sai che non hai Il fegato di toglierla Con tutto quel cerone In faccia Ti comporti come Se non te messi Cosa è in servo Per te il futuro Davvero pensavi Di fregarmi Beh È un vero peccato Perché non sono Così stupida Da cascarci Quindi Risparmiti La patetica Messa in scena Voglio ballare E questo è un fatto Io sono un pagliaccio Un patetico pagliaccio Che danza all'infinito Senpai Mariciana Ha creato questo posto Giusto? Guarda là Quella non le insegna Del Giunes Ci sono anche le altre parti Dell'area commerciale Sparse qua e là Cosa significa? Sono ricordi di tristezza Prima erano dolore Mi chiedo Se arriveremo Almeno un ricordo di gioia Un ricordo bello Ce l'avrà Percepisco qualcosa Pare che le ombre Posso attaccare Anche se tagli queste corde Pronto senpai? Uh Mani armate Eh meno male Eh Guarda quante corde Che ti hanno messo Sto giro Qua ti devi muovere Senza la certezza Di sapere Quale ti farà incontrare Per forza Un nemico Infatti Vorrei usare Il gom Per tornare indietro Ma questo giro Lo farò al prossimo Al prossimo piano Non posso certo Rischiare di dovermi Rifare tutto Sto percorso enorme E il problema Che neanche la mappa Ti aiuta a capire Dove poter andare Dove no Quest'aria È fatta A posto Per metterti In confusione Dovunque tu vada Ovviamente Questa Non mi aspettavo Niente di diverso Per fortuna Che sono deboli A tutto Però Non posso Continuare Ad usare Gli SP Continuiamo A rimanerne Senza È difficile Perché sei Veramente Senza Nulla Dobbiamo vedere Se uno la volpe Ci permette Di curarci E se gli altri Che non sono in squadra Li possiamo prendere E ci hanno Full SP Che poi Noi stiamo tirando dritto Ma non è neanche detto Che questa sia la direzione Dove si ha Le scale Magari era lì nel mezzo Dove non abbiamo visitato Guarda se non avevo ragione Oh Un re dorato Che ha evocato due In un colpo solo Bravissimo lui Devole al fisico E resiste a tutto Vediamo se ti piace Così allora Vediamo se Ha senso caricarsi Provo due Megidolan Perché probabilmente Resisterà anche a quello E una mano di Dio 531 Ed ha pure resistito Bravissimo Yukiko Ma il colpo Questo è l'equivalente Pure È un vero peccato Non avere Trombettiere Per fortuna Un core sort Con concentrazione Almeno quello L'errore Di aver lasciato Un'abilità Che non serviva A qualcuno Alla fine Ci ha portato bene In questo combattimento Soprattutto Tutto Eh certo Quella saltiamo È l'unico modo Per fargli tanto danno In una botta sola Draghi gemelli Con la persona Evoluta al massimo Vediamo cosa esce Vabbè Se era meglio Se era meglio Una mano di Dio Qua 17 Con una concentrazione L'unica cosa Che puoi fare Qua veramente È continuare A sfruttare L'assalto Con Rize Nella speranza Di fargli Mille a colpo Madonna mia Che cattiveria Naoto Eh certo Che ha resistito Qua proprio Lo dobbiamo Pestare Di brutto Ed è ancora Vivo Cos'è Ti preoccupi Della persona Sbagliata Mi spiace Dovevi Pensarci meglio Dovevi Concentrarti Su qualcun altro Kaboom Mi dispiace Non aver preso La mano arcana Perché probabilmente Questo giro Era anche buona Bello resistente Il pippottino Ed eccole qua Le scale Ma prima Forziere Un ramo sacro In pratica Ci sta proprio dicendo Torna indietro Ciò che odio Cose fredde Vivere una farsa La gente che veste inganni Come una maschera Questa sono io Questo sei tu Ciò che amo Cose calde Vivere una vita schietta Le persone gentili Che abbracciano ogni cosa Questo sei tu Senpai Stai bene Sembra che ci manchi Ancora un bel po' Non abbassare la guardia Eh Forziere dorato Meno male che avevo Ancora una chiave Joe rifletti elettricità Abbiamo un ramo sacro Proviamo ad usarlo Nella speranza Che mi faccia ripartire Poi da qui Ma già senpai Le tue cose Che succede Ce l'hai tu Questo posto Ha qualcosa di strano I nostri soliti metodi Non funzionano Ok quindi i soldi Mi sono tornati Posso curarmi dalla volpe Ok questo è già Un plus Attaccare singolo È inutile il problema Yukiko Ha una buona copertura Lei C'ha Megidola Il punto È che mi conviene Portarmi o Kanji O Yosuke Kanji al momento Potrebbe essere più di aiuto Di quanto lo sia C'è Sperando che mi faccia Ricominciare da lì Senpai Promettimi che tornerai San e salvo E come ho detto A questo punto Allora I combattimenti Se non sono Necessari Di salto Proseguiamo Ricordi di sofferenza Ricordi di sofferenza Giusto Quindi questo posto È la sua memoria È triste Ma non riesco a spiegare perché Eccoli qua le scale Come ho detto Se non è necessario È inutile Avanzare Se c'è un forze Nelle vicinanze Andiamo E lo prendiamo Se non c'è nulla Prendiamo E scappiamo Non ha Realmente senso Rimanere più del necessario Lasciati andare Ogni desiderio Ogni impulso Lasciati andare Dai voce al tuo cuore Sfoga il tuo grido interiore Anche se finirai Per perdere la voce Aggrappati alla prova Che esisti E con quella prova Del tuo cuore Vieni con me Ricordi di rabbia Oh È lei Sì Perché siete qui Andiamo a casa Siamo qui per te Particolare Eh esatto Per te ovviamente Ma non è così! Ovvio. Siamo qui per fermarti, non te lo permetteremo. Quindi hai anche un altro nome, giustamente. Ok. Beh, ma l'abbiamo fermato, il creatore della nebbia, no? Quindi erano effettivamente entità diverse da ombre perché erano mostri della nebbia. E tutto quello che abbiamo fatto io e te, creare nuovi ricordi e tutto il resto. Questo è il mio lavoro. Non, ma l'abbiamo. 消ere ovviamente dobbiamo salvare Marie questa corda sicuro c'è un nemico ovviamente è davvero pronto a tutto per non farsi raggiungere questo è quello che pensa ma ormai siamo arrivati fin qui non la lasceremo fare ciò che vuole è vero senpai? sei pronto? tagliendo questa corda le ombre ti attaccheranno forse una novità insomma ok un orso triste sta fatto e un samurai debola al fuoco no debola a tutto e lui che resiste all'attacco fisico va bene Megidola insia facile facile kaboom hai pure resistito bravo insomma non avevi speranze forse è redorato ma non abbiamo chiavi oh benissimo uno della sword debola al fuoco e uno debole al vento Megidola nella risposta a tutto bravissimo kanji tira lì giù potevi sforzarti un attimino di più altra mano arcana gioglaciale ok questo può essere buono per yukiko eccole qua finalmente le scale mamma mia sono la regina questo mondo mi appartiene non ho bisogno di nessun altro il mio mondo è già completo sono la regina questo falso mondo mi appartiene la regina solitaria nessuno conosce il mio vero io non toglietemi il mantello perché senza sono niente non inseguitemi per favore mariciano ha detto che deve morire o il nostro mondo scomparirà vero senpai tu che cosa scusami non dovrei chiedertelo in un momento come questo non c'è tempo per questi pensieri mariciano sta cercando di morire non dobbiamo lasciarglielo fare giusto senpai andiamo la vera problematica non è tanto il combattere e sopravvivere la vera problematica è non avere sp per fare nulla non è tanto il non gli sp per curarmi perché ci sono gli oggetti non è tanto gli sp perché quest'altro motivo è il punto che non puoi neanche attaccare e quella è la vera problematica ed ecco già qui le scale io non proseguirei oltre anche se se mi metti due forzieri così il primo pensiero è che ci abbiano qualcosa di utile dentro non l'hai ancora capito oggi il mondo cambierà per sempre gli impreparati resteranno indietro io sono pronta non c'è più niente che io possa fare se hai paura chiudi gli occhi smettila di blatterare scemenze vado in un mondo che non conosci in un mondo che ti è precluso arrivederci ci incontreremo di nuovo ah riesco a percepirla mariciana è vicina senpai manca poco andiamo allora se è vero devo per forza curarmi useremo soldi che non abbiamo non ho abbastanza soldi neanche per comprare trombettiere o nessun altro questa è veramente una situazione di merda grazie volpina che sei venuta con noi se mariciana è davvero qui vicino speriamo ah ma cacchio io pensavo proprio fosse vicino nel senso come per tutti gli altri questo è l'ultimo piano ah no invece no ho spreso soldi per nulla e allora se è così cerchiamo di evitare gli scontri non sprechiamo quei pochi sp che ci sono rimasti o meglio non sprechiamo gli sp che non ho soldi per riferenderli ci mancava l'ombra dal forziere anche fuggire dalle battaglie ti fa perdere gli sp bene anche forzieri ora depennati dalla lista eccola ma vaffanculo faccio una cosina un filo cheat avevo salvato giusto prima di rientrare cerchiamo subito l'uscita eccola per fortuna marito cavanti così ci mancava